Dacci prima però i dati su quella che è la situazione della sanità e anche il fatto che oggi abbiamo bisogno di risorse, ma queste risorse sono state via via tagliate. Sì, allora diciamo che andando a vedere i tagli negli ultimi anni, ecco questi negli ultimi dieci anni ha calcolato la fondazione GIMB e siamo a 37 miliardi di euro in meno. Chiaramente in questo ci sono i tagli e anche quelli che erano gli stanziamenti programmati in diversi anni che poi dopo non sono proprio stati invece stanziati. Quanto spende il nostro paese per la sanità pubblica? 119 miliardi di euro che è circa il 6,8% del PIL, facendo un paragone con Francia e Gran Bretagna siamo al di sotto, loro sono a 7,5-9% del PIL. Diciamo che per arrivare a quel livello dovremmo dare altri 12 miliardi di euro. Quanti posti letto abbiamo? Se ne sta parlando tanto in questi giorni, 3,2 posti ogni 1.000 abitanti, in Francia 6 ogni 1.000, 8 ogni 1.000 in Germania. E sono stati anche questi, tagliati dal 2010 al 2018, 34 mila posti in meno. Per chiudere vediamo anche la questione della mancanza di medici, perché questa è una situazione che ci portiamo avanti da tempo e che da qui al 2025 porterà 16.700 medici in meno. Oltre 4.000 in medicina d'emergenza, circa 1.500 proprio in rianimazione e terapia intensiva, che sono quelli che maggiormente adesso servono. E nelle zone più colpite, nelle regioni più colpite in queste specialità di emergenza mancano già 869 in Lombardia, 300 circa in Emilia, 308 in Veneto. Bisogna dire che il governo ha detto che stanzierà altri fondi per aumentare del 50% la terapia intensiva ai posti letto. Vedremo come andrà. Allora, mandatemi...